Sentiamo dunque allora un commento anche da parte di Lega Nord, segretario provinciale Michele Mosca. Insomma, il giorno dopo possiamo dire, come è un messaggio così di disperanza? È vissuto in modo negativo, positivo? Beh, credo che queste elezioni amministrative debbano aprire una riflessione a tutti i livelli. Certamente per quanto riguarda Lega Nord, a livello locale, a livello piemontese, intendo, possiamo essere soddisfatti. In senso generale abbiamo aumentato il numero dei sindaci rispetto agli uscenti, l'obiettivo nostro dichiarato era quello di vincere a Novara e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo guidato la coalizione in tanti altri comuni e abbiamo portato alla vittoria il centro-destra. Quindi immagino che questo sia un punto di partenza, un punto di partenza a cui guardare. Tra l'altro mi piace ricordare che la Lega aprì un ciclo proprio vincendo con Massimo Giordano il comune di Novara. Oggi siamo di nuovo noi al governo della città di Novara, la seconda piemontese, e quindi l'augurio, l'auspicio che io voglio fare è quello di riuscire a riaprire un ciclo in breve tempo. Quindi cercando di riportare il buon governo in tante città, voglio pensare anche a Biella, anche se l'appuntamento è ancora un pochino distante, ma soprattutto in regione riportare un buon governo e riuscire a far ripartire questo Piemonte. A livello nazionale è chiaro, l'obiettivo dichiarato invece era quello di Milano, il risultato complessivo finale non è stato positivo al 100% perché c'è stata una sconfitta, è stato però un risultato tutto sommato premiante, nel senso che si è andati alla ricerca di un candidato tra i più moderati. Questo forse non ha pagato al 100%, siamo però arrivati vicini ai risultati del centro-sinistra che si è riconfermato. Pertanto a livello nazionale io auspico che i dirigenti della coalizione di centro-destra, dei vari partiti, vogliano fare una riflessione seria e vogliano ripartire in qualche modo dal fatto che uniti si vince. Non è uno slogan ma questa è la realtà che abbiamo visto su tanti comuni, su tanti campi in cui abbiamo giocato in questo weekend. E poi che dire, io credo che i 5 Stelle abbiano vinto un po' sull'onda del cambiamento, sulla volontà della gente di dare un segnale forte alle storiche coalizioni di centro-sinistra e centro-destra. Certamente i ballottaggi li hanno vinti con i voti del centro-destra che voleva rappresentare un segnale di cambiamento chiaro. Adesso bisogna governare, per governare non è sufficiente la figura di una donna, la figura di un sindaco, bella, simpatica, brava, non lo so, vedremo. Ci vogliono degli assessori e ci vuole un consiglio comunale che supporti le scelte della Giunta. Il vero sconfitto chiaramente è Renzi, è il PD. Mi sembra che in Piemonte il PD non abbia vinto un solo ballottaggio. È un segnale forte? Vedremo come finirà in autunno. Dove Lega Nord non era coinvolta direttamente nei ballottaggi ha votato 5 Stelle? Ma il messaggio che noi abbiamo dato è stato un messaggio di cambiamento. Quindi abbiamo lasciato, come dire, libertà ai nostri elettori. Però è chiaro che quando si dice che il messaggio è un messaggio di cambiamento la scelta non può che essere una e a senso unico. È per questo che dico che i 5 Stelle hanno vinto con il supporto di tanta gente che al primo turno non li aveva votati. Il nuovo non può certo essere Fassino.